Salve ragazzi cari amici del web, quello che state vedendo adesso è la famosissima flotta fluviale della Malesia. La Malesia, soprattutto il Borneo dove mi trovo ora, è tagliata da fiumi molto vasti e la gente per spostarsi o per spostare i viveri, i container e tutto quanto, utilizza le imbarcazioni fluviali come vi sto mostrando adesso. Questa è la famosissima flotta passeggeri che dispone di imbarcazioni modernissime dal taglio slanciato, sono imbarcazioni di indubbia sicurezza, chiaramente utilizzando questo tipo di imbarcazioni è possibile spostarsi da una città all'altra anche per via fluviale, anche perché vi sono dei posti che effettivamente non sono raggiungibili in altro modo, perché è vero sì ci sono le strade ma le strade arrivano sempre fino a un certo punto, poi capita spesso che vi siano fiumi di una certa consistenza che non possono essere passati via strada perché altrimenti ci vorrebbero dei ponti tipo il ponte di Brooklyn ecco quindi molto spesso chi viaggia nel Borneo o in altre località malesi è costretto a prendere le imbarcazioni ecco questo è un terminal fluviale, ecco come vedete ci sono anche indicate le distanze le indicazioni sono sempre molto precise ecco ci salutiamo con questa bellissima panoramica continuate a seguire le mie informazioni sulla Malesa, itinerari di viaggio, luoghi e caratteristiche ok amici alla prossima!